Se il destino dell'agraria in Puglia e dell'olivicultura in particolare non interessa solo questa regione ma a milioni di persone che vivono nei paesi oltre adriatico, come dice il professor Borri commentando un libro dedicato all'olio, si capisce perché l'idea di istituire un corso di perfezionamento in olivicultura a Bari sia così importante, sarebbe il primo in Italia e nel Dipartimento di Scienze Agroalimentari sono a buon punto. Se tutto andrà per il meglio si potrà partire il prossimo anno, in quello appena trascorso invece sono stati portati avanti 10 seminari dedicati a uno dei settori più importanti della nostra agricoltura. Le frontiere nuove sono essenzialmente due, la prima riguarda l'applicazione di quello che l'Unione Europea ha reso obbligatorio da quest'anno che è la gestione integrata o ecosostenibile delle culture e degli allevamenti. Il secondo pilastro invece sfuggia alle mani dell'olivicoltore perché inizia una volta che le olive sono state conferite in frantoio ma devo dire che l'Italia in questo primeggia a livello mondiale. Il ciclo di seminari ha avuto il supporto dell'Asso Proli. Mi sembrava doveroso noi come associazione più importante d'Italia avallare e contribuire a questi 10 seminari che sono stati sicuramente educativi, sono stati formativi. Grazie. 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 Grazie.